Vuoi un IT più semplice? Scegli la semplicità. Assicura ai tuoi dati una protezione di livello superiore, integrando il tuo fornitore d'identità con un gestore di password, come LastPass Business. Con l'integrazione dei servizi federativi, aggiungi un nuovo livello di sicurezza, facendo a meno della password principale. La tua organizzazione ottiene così un unico punto di accesso agli strumenti che usa ogni giorno. Semplice, no? Collegare LastPass con il tuo fornitore d'identità è il modo più pratico per gestire le password in automatico. Adeguare il provisioning e il deprovisioning alle esigenze dell'organizzazione e risparmiare agli amministratori grani difficoltà e richieste di supporto legate alle password, regalando agli utenti finali un'esperienza di autenticazione davvero impeccabile. LastPass Business adotta un approccio unico all'accesso federato. Forte di un'infrastruttura basata sul principio della conoscenza zero di un modello proprietario a chiave multipla, genera una password principale per ogni utente federato e la divide in più parti, conservandole separatamente. Oltre a diventare praticamente impossibile per un hacker riuscire a violare tutte le chiavi, l'intero processo avviene in background, garantendo agli utenti di un'organizzazione un modo più pratico e sicuro per accedere a tutti gli strumenti. Solo il dispositivo locale degli utenti è in grado di decrittografare le chiavi ricombinandole. Ma non è tutto. LastPass Business si integra con i principali fornitori di identità. Vuoi un IT più semplice? Scegli la semplicità, la praticità e soprattutto la tranquillità. Solo con LastPass Business.